Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo che cosa dobbiamo fare. Rispondeva loro chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero maestro che cosa dobbiamo fare ed egli disse loro non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati e noi che cosa dobbiamo fare. Rispose loro non maltrattate e non estorcete niente a nessuno accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo io vi battezzo con acqua ma viene colui che è più forte di me a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio. Ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Il nostro cammino è ormai inoltrato in questo tempo forte dell'Avvento. La terza domenica definita della gioia ci spinge a recuperare in qualche modo le forze, a non angustiarsi, ma ad esultare perché il Signore è vicino. Gesù, il Cristo e il Messia che doveva venire. Il tema della gioia che attraversa un po' tutta la liturgia della parola di questa domenica sostiene la speranza del fedele che attende il Signore. Rallegrati, figlia di Sion, ascolteremo nella prima lettura tratta dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia a Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, il Signore gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Il motivo per cui gioire allora è chiaro, il principe della pace e della giustizia, che ridona la libertà ai prigionieri e agli oppressi, colui che adempia le promesse antiche, che revoca ogni condanna e sostiene nella sventura, sta per venire e stabilirà ogni equilibrio. Nel brano del Vangelo, che ha come centralità tematica ancora la predicazione e la missione di Giovanni il Battista, emerge con parole forti l'esortazione a prepararsi alla venuta del Messia. Infatti, alla domanda delle folle che gli chiedono cosa fare, Giovanni dice sostanzialmente di praticare la solidarietà, l'altruismo e la condivisione. Chi ha due tuniche ascolteremo ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Così anche ad alcuni pubblicani, che erano andati per farsi battezzare, dice, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. E ad alcuni soldati, non maltrattate e non estorcete a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Giovanni invita all'onestà e al rispetto. Carissimi amici, questi sono i criteri che devono contraddistinguere le vere sentinelle che attendono la venuta del Signore. La buona notizia della salvezza è un messaggio di gioia e di liberazione. Gesù viene nel mondo per spezzare ogni catena, viene per liberare l'uomo da ogni forma di schiavitù. viene per ridare all'uomo la dignità di vero uomo, creato per la vita e per la felicità senza fine. Dobbiamo allora essere pronti anche noi a questa bella rivoluzione che il Signore opera per ciascuno di noi. Dobbiamo essere pronti ad accogliere la sua luce per diventare anche noi portatori della vera luce, di gioia, portatori di speranza. Dobbiamo essere pronti a vivere con fede l'esperienza della sua misericordia. Dobbiamo imparare ad essere uomini e donne di pace, che cercano la verità e che intessono ovunque, con le persone e con le cose, rapporti liberanti, equilibrati e giusti. Lasciamoci allora inondare dalla gioia per la salvezza vicina, per essere fonte di consolazione, di amore e di benedizione per quanti avvicineremo o a cui stringeremo una mano o siamo chiamati a porgere una parola o un gesto di pace e di speranza. Pace e bene e buona domenica a tutti. Pace e bene e buona domenica a tutti.